Piccolo test Present Perfect Simple Past Sono le 3 del pomeriggio e io dico questa mattina ho preso 3 caffè Simple Past o Present Perfect? Ti aiuto a risolvere questo enigma con il metodo Marenco Sono 3 domande sempre uguali per tutte le frasi Partiamo ad esempio con questa Questa mattina ho preso 3 caffè e sono le 3 del pomeriggio Come abbiamo detto prima La prima domanda che devi farti è L'azione è terminata? Beh, sì, perché non sto più prendendo caffè Per cui hai risposto sì, vai alla seconda domanda Il tempo è chiaro? Cioè, so dire quando? Sì, questa mattina, perfetto Allora hai detto sì anche alla seconda E quindi vai alla terza domanda e ultima Che ti chiede Ma il tempo è finito? Cioè, se sono le 3 del pomeriggio E l'azione è stata fatta al mattino Il tempo, mattino, è finito Perché adesso è pomeriggio Quindi hai risposto sì anche alla terza domanda Se rispondi sì a tutte e tre le domande È Simple Past sicuramente This morning I had 3 coffees Ma attenzione Proviamo a sostituire questa mattina con oggi Quindi ci facciamo le solite 3 domande L'azione è terminata? Sì, perché non sto più prendendo caffè Vado alla seconda Il tempo è chiaro? So rispondere a quando? Sì, oggi Terza Il tempo è finito? Eh no Perché in qualunque momento io della giornata dica oggi È sempre ancora oggi E allora vedi, basta una domanda A cui tu rispondi no Che è subito Present Perfect Today I've had 3 coffees Spero di avervi aiutato Nei commenti rispondo a tutti